Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi giochiamo una partita rapid, gioco E4 contro un 2.272, vaidità del Marocco, ok, D5 con l'isola scandinava. L'isola scandinava che ho già commentato, quindi magari ti metto qui sopra il video scandinava in 10 minuti, così puoi vedere i principali piani della difesa da nero e anche cosa può rispondere il bianco. Ecco, qui sono tre elementi principali, don A5, D6 o D8 e il mio avversario sceglie per don A8. Vedete se non l'hai già fatto, ti chiedo di iscrivervi al canale YouTube, cliccando qui sotto e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Ok, cavallo F3 per difendere il piani D4, alfa di G4 mi attacca il cavallo e io lo difendo con alfiere in E2. F2, C6, sta controlla una casa D5 e so già che in futuro il mio avversario vorrà creare una spinta di rottura, perché conosco questa attività per don A8, l'ho già commentata in molti video e il mio avversario in futuro vorrà giocare E5 o C5. Bene, allora cosa giochiamo per evitarlo? Per esempio, torre E1 può essere un'idea, controlla la casa D5, alfiere in F4 è un'altra idea, controlla ancora una volta la casa D5, allora giochiamo prima alfiere F4, così su alfiere D6 posso anche decidere di cambiare questo alfiere. Ok, alfiere D6 e allora cambiamolo, sfere per don A8, ora torre in E1, sto pensando, no non mi sta attaccando il piani D4, non ci sono problemi. Torre in E1 controlla la casa D5 e io qui sto pensando, potrei anche giocare con le 5, perché controlla la casa D5 in futuro anche F4 potrebbe essere interessante. sul cambio alfiere per alfiere, catturo di torre, torre in D8, posso giocare il cavallo in C4 oppure anche il torre in D2. Secondo me ci può stare, l'unico fatto è che questo primo D4 è un po' indifeso, quindi un'altra idea che mi sta venendo in mente è magari giocare il cavallo in A4 per giocare poi C3. ho ancora don D2 e torre in D1, forse è questa la linea migliore, quindi prima don D2 per giocare torre in D1 e poi cavallo in E5. L'unica cosa è che C5 mi potrebbe giocare il mio avversario, praticamente pareggiando la partita, perché mi vedo scambio. scambio. Avrei un piccolo vantaggio dovuto ai tre pedoni contro due, quindi si dice maggioranza in nato di donna, però più o meno è pari. Cavallo A4 però, torre D8, questo cavallo è al lato. Ok, allora tra queste mosse io sceglierei donna D2. Va bene, donna D2, idea torre D1 e poi cavallo in E5. Questo uno su torre D8 rispondo subito con torre in D1, difendiamo il pedone. Il problema è che ora se mi fa alfiere per alfiere per C5, io forse posso giocare D5, vediamo un poco. Per alfiere per sì, è un'idea, è un'idea. Ah, attenzione, su alfiere per alfiere per non può giocare C5 perché cade B7. Cavallo D7 intanto giustamente controlla la casa E5 e controlla anche la casa C5. Non è malvagio come... no, anzi è una buona mossa. Allora, potrei giocare a cavallo G5 con l'idea poi cavalline 4. Oppure ancora... Attenzione che cavallo D5 in realtà si può giocare perché cavallo per, pedone per, donna per, c'è donna per torre. Ma cavallo per, pedone per, mi cattura qui, mi cattura la regina. Quindi cavallo E5 non si può giocare. Cavallo A4 non mi piace tanto. Allora, come migliorare i pezzi? Ma per esempio un H3 si potrebbe tanto fare. Tanto banalmente crea una casa di fuga, attacco l'alfiere. Non è una mossa sbagliata in genere in questi casi. Ovviamente se cattura, io catturo e sono contento. Allora, questo gollo in C3, secondo me può essere migliorato. Ok, catturo e io catturo. Ok, a questo punto ovviamente si libera la casa in E4. Si libera la casa in E4. E5 è evitata. C5 pure, perché mi ha soffiato il B7. Bene. Potrei anche giocare torre in E5. Poi è interessante, attenzione, la casa C4. Quindi il mio avversor se mi ha giocato la cavallo C4. Forse B3 si potrebbe fare. B3, cavallo D5, cavallo in E4 e poi C4. Ok, allora B3. Su cavallo in D5. Cavallo in E4, cavallo pera, alfiore pera e poi C4. Non è male. Inoltre, una mia idea, potrebbe essere in futuro anche giocare D5. Che può essere molto interessante. Con l'idea di aprire tutte le colonne e magari entrare in Settimo e in Ottava. Con l'idea sto utilizzando dei piani che ho spiegato nei precedenti video. Nei video in cui commento i partiti di grandi maestri e proprio con questa struttura peonale. Allora, cavallo in E4, idea poi C4. Torre B8 è interessante, perché la sta giocando? Perché lui vorrebbe giocare C5. Io potrei giocare Donne3 per evitare C5. O anche Donna G5 volendo. Anche Donna G5 eviterebbe C5. Perché Donne3 non mi piace il cavallo in D5. E mi attacca la regina. Donna G5. G5 secondo me ci sta. E poi cavallo in E4. E su la semplice H6. A questo punto potrei fare Donne5. Donna per Torre Per, cavallo in D7. Non mi piace. Però Donne5, Donna per, portolatore di pedone. Attenzione, attenzione, questo è interessante. Con idea poi, cavallo in E4, cavallo in D6. Ok, proviamo questa. Quindi Donna G5. Con la mia idea di evitare C5 e anche E5, ma E5 l'ha già evitata. Se mi gioco H6, gioco Donna E5 e sul cambio catturo di pedone per la casa D6. Donna B4. Mi attacca il cavallo. E inoltre, attenzione, che ora sono due pezzi da attaccare il pedone. Allora, questo cavallo, innanzitutto, lo portiamo in E2 o in E4? In E4, cavallo per... Eh, dovrei catturare di torre. Si può anche fare... Ma secondo me anche in E2 non è terribile. Inoltre poi minaccio anche C3, banalmente. Allora dai, cavallo E2. Quindi difendo il pedone D4, minaccio C3 e guadagno un tempo. Questo cavallo poi... Beh, volendo anche C3 e C4 si potrebbe giocare. O anche C4 subito. Anche C4 subito, perché tanto questo pedone è super difeso. In che mio avviso non gioca D5 e C5, sono super contento. E inoltre, dopo C4, le sue spinte C5 e E5 diventano un po' meno efficaci. Perché a quel punto potrei rispondere con D5. Per chiarirmi un primo è passato. Quindi secondo me, io dovrei giocare la prossima C4. Vediamo un po'. Nel frattempo un'altra idea, anche se è un po' folle, sarebbe H4, H5, che me l'ha subito evitata. H6, questo punto possiamo giurare donna D2, però donna P, Torre Per, E5, no. C3, pedone P, pedone P, non mi piace. Donna E5, cavallo in D7, donne 3. Si potrebbe anche fare. Donna C1, è anche un'idea. Oppure ancora donna H4. Però donna H4 spinge. Allora dai, donna E5. Donna E5, così controlliamo sempre queste case. Per me è fondamentale evitare il suo piano, ovvero quello di liberarsi con E5 o C5. Sul coro D7, va bene, donna D6, ok. Interessante. Io giocarei C4, tanto più altrimenti donna Per, pedone Per, per me va bene. Cavallo in D7, cavallo in C3, poi volete fare F4, insomma. Ci può stare. Quindi io giocarei C4. Se no, altre idee. Donna P, Torre Per, C4. Minaccio C5. È anche interessante. Forse, forse si può fare subito. Sì, dai. Donna Per, Torre Per, C4. Minaccio C5. E attenzione ora, perché C5, questo cavallo, dove va? Va in C8. Che, ah no, va in D5. No, come non detto, ok. Allora. Vorrei portare il cavallo in E5. Nel stesso momento, sul Torre D8, ovviamente, mi attacca il pedone. E allora, raddoppiamo. Raddoppiamo. Stavo pensando a un eventuale sacrificio. Potendo col F4, D5, per, 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 per. No, sono troppi. Niente, sì, raddoppiamo. Ok. Torre D2, Torre D1. Ok. Ora, il problema è che lui potrebbe fare E5. Potrebbe giocare E5, sì. Non ho modo per evitarla. Io potrei fare C5. A questo punto, cavallo C8. Perché non può andare più in D5, se no catturo. Se no, D5 non funziona, vero? Pione per, pione per, cavallo per, cavallo C3. No, cavallo per cavallo, perché è difeso dal cavallo in F6. Ok. Quindi D5 non funziona. La cattura, ovviamente, mi darebbe parità. C5. C5. C5, cavallo C8. Cavallo C3, Torre Per, cavallo E4. No, non funziona. C5 e poi D5, per, ne per. Va, potrei giocare tipo C5 e B4. Però, il problema è che c'è la casa D5. Se no, semplicemente aspetto. E allora, G3, così mi creo casa di fuga, nel caso in cui voglio fare E4. E ovviamente, superiore per, catturo di torre. E il finale è patto. Quindi, se ora cambiamo tutte le torre, il finale è patto. Devo durare veloce, se no qui perdiamo di tempo. Non so se ho sbagliato qualcosa. Perché, alla fine, comunque, il mio avversario è riuscito a, nel suo intento, quindi a giocare E5. Tutte le partite in cui volevo evitarlo. Forse F4 avrei dovuto giocare. Tanto cambiamo tutto, tanto ormai. Ok, cerchiamo debolezze. Ho in D6 o in C5, vuole andare il mio cavallo. Qui, vado in G2. Vado in E4. Vabbè, dai, cambiamo e qui si va verso un pareggio, se non perdo di tempo. F4. Ah, dovrebbe portare il re al centro, ovviamente. Allora, lo portiamo subito. Anche per controllare la casa D3. F5, cavallo D2. Re in E2 contro la casa D3. Ora minaccia anche F4. Eh, vabbè, giochiamola. C'è il cavallo a retra. Gioco anche G4. Cerchiamo di creare un po' nel passato. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Ok, call F3 per creare lo scacco in D4. B4, B5 è anche un'idea interessante. La vediamo. Pedone per F5 è pure bella perché... Ah, ok, giustamente mi cattivo di cavallo. Ho sbagliato, forse. Sì, ho sbagliato. Perché ho il pedone F4 su casa scura, quindi se io cambio il cavallo rischio di perdere questo pedone. Devo gestire meglio il tempo, mannaggia. Ok, allora, se non è qui, è patta. Mannaggia, c'è scacco. Vabbè, ho perso il pedone. Ah, forse... C'è G4 scacco se vai in G5. Sì. Se vai in G5, tu scacco in G4. Attenzione, eh sì, la pattiamo. Devo riuscire a dargli per peduo. Vediamo un po'. Sì, dai, diamo perpetuo perché ho anche pochi secondi. Attenzione, perdo il cavallo. Eh, però io devo riuscire a non perdere per il tempo. Mannaggia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eh, micro in 3 secondi, mannaggia, qui è vinta. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Almeno la patta, no! No! Vabbè. Allora, partita è molto interessante. Sono curioso di sapere se ho sbagliato qualcosa nella spinta I5-C5 che dicevo. Allora, andiamo un attimo solamente a questa posizione. Allora. Ho fatto due errori, dice il computer. Però non in apertura. Infatti le prime 22 mosse sono tutte corrette. Qui, cavalline 4. Ah, di tocca, è nel finale. E allora, in apertura in realtà non ho sbagliato nulla. Però secondo me si poteva giocare meglio. Infatti dà pari, pari, pari tutto. Un po' prima. Ok, torre 1, rocco, donna d2, quindi è corretta. Sì. Torre d8, torre d1 è corretta. Cavallo d7, h3 è corretta. Alfie per, alfie per, cavallo b6. B3, forse non è il massimo. Qui dice subito cavallo e2, anche se su cavallo e2 è giustamente permette 5, donna c1 è un'idea interessante. Cavallo b1, suggerisce anche, però più o meno siamo lì, perché da 0,2 a 0,0, insomma. È uguale. B5, suggerisce cavallo e4. Ma cavallo e4 poi non perdo il pedone. Cavallo e4, cavallo per, ah, no, alfie per 4. E5, no. Ah, e su e5 qui, donna d3. Questa potrebbe essere un'idea. Però comunque, insomma, l'idea donna g5 non è affatto sbagliata. Il computer me la approva. Sì, niente, è che, per esempio, ha giocato bene. Qui la partita è sempre pari. Il raddoppio è corretto e dopo e5 c'è completa parità. Va bene. Partita è molto, molto interessante. Assolutamente. Poi sapete nei commenti che ne pensate. Se vi sono piaciuti anche i punti strategici e posizionali che ho spiegato mentre giocavo. Vi lascio qui di video in sua impressione. Vi lascio un like se vi piaciuto il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!